Credo che la misura sia colma, sinceramente, quindi con molta tranquillità da qui in poi si occuperanno di questa questione i miei legali e quindi saranno loro, se necessario, a fornire altri aggiornamenti. Una banca di guai. Quindi noi chiediamo la sfinucia della Boschi tramite il governo. La sottosegretaria Boschi dovrebbe fare un passo indietro. Ma che senso ha? È una bugiarda caonica. È una bugiarda caonica. A mente sempre, sapendo di mentire, non ha alcun senso. Grazie. Grazie. Grazie.